La comunità politica teramana e abruzzese non lascia andare via per l'ultima volta il feretro di Ernino D'Agostino senza chiedergli prima scusa. Scusa per essere stata colpevolmente assente quando l'ex presidente della provincia di Teramo non rieletto ha dovuto fare i conti con quelle difficoltà personali che solo l'estrema riservatezza e l'encomiabile dignità di uomo e politico hanno protetto dal facile pietismo. A San Nicolò, nella chiesa Santa Maria degli Angeli, in oltre 500 rendono l'estremo saluto ad Ernino uomo delle passioni e delle idee, uomo degli ideali e dei valori che come ha ricordato Monsignor Michele Seccia nell'Omelia hanno ritmato una quotidianità sempre al servizio della comunità. Ernino D'Agostino, uomo delle nelle istituzioni, uomo del noi e mai dell'io dell'esempio e mai dell'arroganza a cui la politica sempre di più ci sta abituando. parlamentari di oggi e di ieri, rappresentanti della regione, sindaci del PD e nonno volti noti della sinistra locale, provinciale e regionale i gonfaloni dei comuni di Teramo, Castellalto, quello della provincia e poi loro, i compagni ed amici della Cigelle. Allora è andato il grazie della politica per non aver lasciato solo Ernino quando la politica distratta e inaridita lo aveva invece abbandonato. Il giorno dell'addio ad Ernino è il giorno di un dovuto mea culpa e a poco conta il grazie detto al presidente Renzo Di Sabatino per aver allestito la Camera Ardente nella Sala Consigliare di Via Milli perché l'unico ringraziamento va proprio ad Ernino che ha restituito dignità alla provincia riportandovi un fiume di cittadini che si è giustificato soltanto con l'omaggio ad una grande persona il cui esempio non passa e non passerà mai. Nelle lacrime di figure istituzionali abituate al grande pubblico si riflette l'amarezza per non aver valorizzato uno dei politici di cui Teramo troppo presto fa a meno. Ernino D'Agostino è stato uomo di idee, di ideali, di proposte buone pratiche per il noi, mai per l'io. E se ne è andato senza rumore, coerente col suo stile fino all'ultimo respiro. La politica terramana abruzzese ne sente la mancanza ma è troppo tardi. Nell'applauso dei tanti cittadini comuni che gli hanno reso omaggio per l'ultima volta c'è il senso di una vita spesa per loro e per nessun altro.